Ciao a tutti e benvenuti a Stories in Slow Italian. Sapete che cos'è la fuga dei cervelli? Fuga significa escape e il cervello è the brain. Quindi la fuga dei cervelli significa letteralmente the escape of the brains. Potete tradurlo come brain drain. L'altro giorno ho letto un articolo molto interessante su un sito che ho già condiviso con voi perché lo usavo molto spesso con i miei studenti e lo trovo utilissimo. Quindi l'altro giorno, the other day, l'altro giorno ho letto un articolo molto interessante. So I read, leggere, ho letto. So I have read un articolo, an article very interesting, molto interessante su un sito, on a website, un sito che ho già condiviso con voi. That I have already shared with you. Condividere, to share something. You can use it to share something physical or for example a link or a website. Condividere, perché lo usavo molto spesso con i miei studenti. So I used to, lo usavo, I used to use it very often, molto spesso with my students. E lo trovo utilissimo. I find it very useful. So also in Italian we say to find something useful. Lo trovo utile, lo trovo utilissimo. Very useful. This is the superlative of the adjective utile, utilissimo. Vi lascio il link dell'articolo nella trascrizione dell'episodio su Patreon. Quindi vi lascio, lasciare to leave. I leave the link of the article in the transcription of the episode on Patreon, on the website, on my page on Patreon. Nell'articolo si parla del fatto che in Italia i giovani vengono cresciuti e vengono istruiti per poi andarsene dal paese e usare le loro conoscenze in un altro luogo. Nell'articolo si parla del fatto che. In the article, in the article, they talk about the fact that, del fatto che, the fact that. Si parla, we use this si plus the verb in the third person singular for the in-person form. So you translate it as in, they talk or one talks about, so they talk about the fact that in Italia, i giovani, i giovani are the young people, vengono cresciuti e vengono istruiti. In Italian, the passive can be formed with the verb to be or the verb to come. In this case, I'm using the verb to come, vengono cresciuti, but I could be saying, sono cresciuti e sono istruiti. And this means they are raised and they are, let's say, educated. So they are raised, vengono cresciuti, and they are educated, vengono istruiti. Per poi andarsene dal paese, to end up leaving the country, e usare le loro conoscenze in un altro luogo. And using their knowledge, le conoscenze, in another place, in un altro luogo. Spieghiamolo in maniera più semplice. So let's explain that, spieghiamolo. in maniera più semplice, in un modo più semplice, in an easier way. Ve lo spiego usando il mio esempio. I'm going to explain it by using my example of my life. Io sono nata e cresciuta in Italia. So I was born and raised in Italy. Sono nata, I was born. Sono cresciuta, I was raised. In Italy. Or I grew up, sono cresciuta, spero. Ho studiato in Italia. Sono andata all'università in Italia. So I studied in Italy and I went to university in Italy. Quindi, in un certo senso, l'Italia mi ha istruita e mi ha dato delle conoscenze e capacità. So in a certain, from a certain point of view, in un certo senso, Italy educated me and gave me knowledge and skills. Conoscenze e capacità. E io cosa ho fatto? What did I do? Sono andata via dal paese e ho usato le mie conoscenze. La mia istruzione, ciò che so fare in un altro paese. So sono andata via dal paese. I left the country. E ho usato le mie conoscenze. I used my knowledge. La mia istruzione, my education. Ciò che so fare in un altro paese. What I can do, I used it in another country. So be careful here. I already used a lot of times istruzione, essere istruita. and I'm translating it as education because in Italian if you say l'educazione is the being polite. So the politeness. So if I want to talk about the education, the school, I'm going to say istruzione, istruire. Quindi non sto aiutando l'Italia in nessun modo adesso. I'm not helping Italy in any way now. In nessun modo, in no way. E questo è quello che continua a succedere in Italia in quantità sempre più grande. So questo è quello che continua a succedere in Italia. This is what keeps on happening in Italy. Succedere is to happen. In quantità sempre più grande. So more and more. La parola che usa l'articolo e che trovo più interessante è investimenti. So the word, la parola, che usa l'articolo, that the article uses, e che io trovo più interessante and that I find most interesting is the word investimenti, which is investment. Non avevo mai pensato a questo. Che l'Italia ha investito in me e io me ne sono andata. So I never actually thought about this. Non avevo mai pensato a questo. The fact that Italy invested in me and I just left. Ma perché l'ho fatto? E perché sempre più giovani lo fanno? Why did I do it and why more and more young people do it? E' molto semplice. Perché nonostante l'Italia investa nei giovani, poi non dà loro opportunità. So this is very easy why this keeps happening. It's because despite, nonostante, despite Italy invests in young people, then, poi, it doesn't give them opportunities. Non dà loro opportunità. Dopo aver studiato, i giovani italiani fanno fatica a trovare lavoro. e quando lo trovano, molto spesso non è una posizione soddisfacente o a livello della loro istruzione e preparazione. Dopo aver studiato, after studying, i giovani italiani, young Italians, fanno fatica, fare fatica means to struggle, so fanno fatica a trovare lavoro. They struggle finding a job. e quando lo trovano, when they do find it, molto spesso, very often, non è una posizione soddisfacente. So it's not a satisfying position, you know, o a livello della loro istruzione e preparazione, to the level of their education and preparation, so what they studied. Tutto questo è molto triste, certamente. This is very sad, triste. E preoccupante per il futuro dell'Italia. This is also worrying, preoccupante. For the future of Italy, you know. Voi cosa ne pensate? C'è un problema simile nel vostro paese? Fatemelo sapere, si vi va. So, what do you think about this? Is there a similar problem in the country where you live, where you're from? Let me know if you would like. You can do this on Patreon or on Spotify. You can answer to the questions. You can always text me on Instagram, if you want. or you can comment on the transcription, on Patreon. So, if you want, let me know how is the situation in the country where you live. e un'altra cosa interessante che menziona l'articolo sono le destinazioni dei giovani italiani. So, something else I also, I found interesting and the, the, that the article mentions is the destinations where the young Italians go to, which are Regno Unito, United Kingdom, Regno Unito, Paesi Bassi, so Holland or the Netherlands, Germania e Svizzera, Germany and Switzerland, Svizzera. Io posso confermare questi paesi guardando dove i miei amici si sono diretti. So, I can confirm these countries are, this is true, if I look at where my friends went to, specialmente Londra e Berlino. You know, London and Berlin are the top ones. Se c'è qualcuno di voi che vive in questi paesi, confermate che sono strapopolati da italiani. So, if any of you lives in these countries, can you confirm that they are full, full, full of italiani? Grazie per avermi ascoltata. Spero che questo argomento sia interessante per voi. Così come lo è stato per me. Alla prossima! So, thank you, as always, for listening. I hope this is interesting for you, as it was for me. Of course, for some people it might not be, but I think it's always interesting to also know what's going on in Italy, how is the situation, especially with young people. And to end, I want to thank a thousand times everyone who's been sending me donations on Patreon. I really, really, really appreciate that. Thank you very much. And I hope to see you, to talk to you soon. Ciao, ciao. Bye, bye.